intelligenza artificiale e umana la sinergia del futuro da bambina mi sarebbe piaciuto probabilmente fare l'archeologa perché amavo la storia antica non conoscevo ancora il futuro però l'idea di esplorare nel terreno studiare le cose che in quel momento non si vedevano era già una parte dei dei miei sogni rita cucchiara una delle massime esperte italiane nel campo dell'intelligenza artificiale è professore ordinario al dipartimento di informatica e ingegneria enzo ferrari dell'università degli studi di modena e reggio emilia dove insegna visione artificiale e sistemi cognitivi e autrice di più di 450 lavori scientifici nel campo della visione artificiale e del deep learning a modena oggi dirige l'alma gel lab un laboratorio sperimentale che studia come insegnare alle macchine a riconoscere il mondo attraverso le immagini vorremmo arrivare ad una visione super umana possiamo pensare di poter vedere nella nebbia di poter riconoscere anche dei dettagli da immagini molto sfocate o di grandi dimensioni oppure addirittura anche di comprendere come spesso facciamo le espressioni o le intenzioni umane anche soltanto da uno sguardo i robot ci osservano computer e robot capaci di individuare gli esseri umani e anche i loro comportamenti un'opportunità ormai apportata di mano dal punto di vista tecnologico con molte possibili applicazioni già allo studio una di queste riguarda anche il rispetto del distanziamento sociale imposto dalla pandemia con un sistema di telecamere che avvisa quando due persone si avvicinano troppo il riconoscimento facciale ha tanti aspetti positivi un esempio eclatante è il fatto di poterlo utilizzare per vedere nel momento in cui un guidatore ha la guida da molto tempo se ha degli aspetti che possono essere ricondotti ad un comportamento affaticato o addirittura a capire se una persona può avere l'inizio di un infarto di una situazione ancora insomma più pericolosa per la guida ma pensiamo anche al riconoscimento delle parti del nostro corpo adesso la visione artificiale si usa moltissimo dell'ausilio della medicina e della chirurgia a distanza per permettere ad un chirurgo di eseguire delle operazioni attraverso robot pur essendo dall'altra parte della terra da molti anni qui a modena noi ci occupiamo effettivamente del riconoscimento del comportamento umano che passa attraverso l'analisi di video e quindi non tanto del riconoscimento di chi è una persona ma di che cosa sta facendo e ultimamente all'inizio della pandemia ci siamo chiesti se questo tipo di software che noi stavamo sviluppando poteva essere utile per qualcosa e abbiamo sviluppato una tecnologia che si chiama inter homines capace di misurare in tempo reale le distanze tra gli uomini e quindi capire effettivamente se le persone si trovano una distanza di sicurezza che può essere considerata a rischio o meno per un problema di pandemia. Una questione di privacy il riconoscimento da parte delle macchine solleva dubbi legati alla privacy e gli scienziati lavorano perché la tecnologia sia al servizio della società senza invadere la sfera privata dei singoli individui. Credo che l'ottimismo debba essere basato sulla conoscenza e sulla tecnologia e penso che tante volte le paure invece nascano quasi sempre dalla disinformazione o della mancanza di informazioni dovuto al fatto che semplicemente non si può essere esperti di tutto. È ovvio che questi sistemi se non si conoscono potrebbero creare dei problemi di gestione della privacy. Noi abbiamo veramente lavorato in privacy by design cioè nel progetto iniziale il sistema non memorizza nulla quindi può riconoscere non riconoscere ma non ha nessuna forma di memoria su chi è passato da quella parte. La persona diventa semplicemente un pallino nella mappa e quindi ogni informazione viene automaticamente distrutta nel momento in cui viene lavorata. Una nuova alleanza quando i robot sapranno riconoscere con precisione gli esseri umani e i loro movimenti la nostra interazione con queste macchine cambierà completamente a cominciare dai luoghi di lavoro. Nel laboratorio della professoressa Cucchiara si lavora anche su questo. L'interazione robot-robot nel mondo dell'industria fino adesso è sempre stato fatto in modo da evitare qualsiasi forma di collaborazione tra essere umano, collaborazione fisica sto dicendo, tra essere umano e robot. Ecco in questo caso i sistemi devono essere in grado di vedere e di prevedere il nostro comportamento per non essere calpestati da una parte ma anche per non creare dei danni alle persone. E guardate che questo che per noi è talmente naturale non lo è affatto per un calcolatore. Il calcolatore apprende da grandissime quantità di dati allora così come è relativamente abbastanza facile prevedere una persona che sulle strisce pedonali vada dritto perché questo è il nostro tipico comportamento ci sono molti ambiti dove non è affatto prevedibile quindi sono i robot che devono comprendere noi non siamo noi che ci dobbiamo adeguare al mondo artificiale ed è questa la sfida più grande quella di fare in modo che in modo non invasivo sistemi artificiali possano lavorare con noi per noi senza darci fastidio senza farci troppe domande ma anche in totale sicurezza e in totale sinergia con i nostri aspetti. Cos'è l'intelligenza artificiale? Spesso sotto la categoria intelligenza artificiale vengono incluse tecnologie e servizi molto diversi. Come orientarsi? Per Rita Cucchiara non ci sono dubbi su cosa è intelligenza artificiale e su cosa non lo è. La definizione della comunità europea di intelligenza artificiale è quella di sistemi che sono in grado di analizzare il mondo dall'esterno di avere un comportamento intelligente e di intraprendere azioni per problemi specifici e con un certo grado di autonomia. Tante volte si confonde l'intelligenza artificiale con il machine learning e effettivamente è anche giusto confonderlo in qualche modo perché ora quello che si chiama machine learning cioè apprendimento automatico è la categoria più importante dell'intelligenza artificiale. Ho fatto un esempio molto pratico di machine learning prendendo ispirazione al fatto che ho ancora la fortuna di incontrare mia madre tutte le domeniche e che tutte le domeniche ci prepara la crema pasticcera. Come tutte le cose fatte a mano non c'è una ricetta precisa e quindi ogni domenica la ricetta avviene in un modo diverso e viene sempre meglio per approssimazioni successive. Mia madre inizia a mettere un po' di farina, un po' di zucchero, un po' di latte. In base alla sua esperienza ascolta i giudizi di mio figlio e di mia figlia e cerca in qualche modo di adeguarsi. In realtà gli viene sempre abbastanza soda però siamo sempre tutti molto felici di questo e questo è un apprendimento che noi facciamo volta per volta cioè in base ai dati, in base all'esperienza e soprattutto in base al feedback che ci ritorna dall'esterno e questo dal punto di vista tecnico lo chiameremmo reinforcement learning cioè l'apprendimento con rinforzo, mio figlio che sorride e che applaude o che invece chiede alla nonna di rifarlo e così come avviene appunto per noi che apprendiamo dai dati, dall'esperienza e dal feedback così i calcolatori sono in grado di lavorare nello stesso modo. Nel bene e nel male il mondo digitale e l'intelligenza artificiale rappresentano straordinarie occasioni di crescita culturale ed economica ma pongono nuovi problemi. Così come il riconoscimento facciale se utilizzato in maniera distorta può mettere a rischio la privacy dei cittadini, la grande diffusione dei social network sembra aver favorito il propagarsi di fake news e di operazioni di vera e propria disinformazione. Gli algoritmi intelligenza artificiale possono essere utilizzati nel bene o nel male. È chiaro che se si prediligono i contatti tra persone che fomentano l'odio, fomentano la disinformazione, questo naturalmente creerà più like, creerà più interazioni tra le persone ma può anche avere degli effetti distopici sul nostro modo di pensare. Viceversa però le stesse tecnologie possono essere utilizzate anche a fin di bene o possono essere utilizzate per smascherare gli stessi deepfake. È possibile guardare e trovare le similarità dei video anche se non sono esattamente identici. Pensate ai 300 mila persone che sono venuti tanti anni fa a vedere Vasco Rossi qua a Modena e che hanno preso gli stessi video delle stesse canzoni da punti di vista diverso. Bene, questo tipo di tecnologie possono servire anche per vedere, per riconoscere le similarità tra video pericolosi come potrebbero essere dei video pedopornografici oppure dei video di terroristi. Come proteggere i nostri dati? Un altro tema di grande attualità è il controllo dei nostri dati personali. I colossi del web li accumulano fornendoci in cambio servizi apparentemente gratuiti. Ma dicono gli esperti i dati sono il nuovo oro e chi li detiene ha il vero potere di quest'era digitale. Ancora più dei dati io penso che il vero detentore del potere è chi conosce adesso le tecnologie per poterli analizzare. Non tutti sono possessori dei propri dati. Per quel che riguarda i dati sociali ormai ci abbiamo rinunciato perché i dati sociali li abbiamo regalati altrove, però noi siamo ancora possessori di molti dei nostri dati perché sappiamo che abbiamo i dati del nostro territorio, i dati della nostra produzione industriale, i dati della nostra salute, i nostri dati finanziari che non sono ancora stati regalati altrove e quindi questi sono dei dati che dobbiamo mantenere di nostra proprietà. Il problema dei big data è un problema importante ma ancora più importante è che questi dati messi in grande server da soli non possono essere elaborati, non servono a niente se non si hanno le tecnologie per elaborarle. Sarà ancora più urgente oggi nel prossimo futuro che l'Italia si doti di tecnologie per poter analizzare in modo automatico questi dati, in modo controllato dall'essere umano, ma che possa sviluppare una tecnologia di intelligenza artificiale italiana. Di fronte a questi scenari preoccupanti per un verso ed entusiasmanti per molti altri, la via maestra è non farsi trovare impreparati, formare le nuove generazioni perché sappiano guidare la rivoluzione digitale piuttosto che subirla. Io penso che studiare Ingegneria Informatica e in particolare adesso tutte le tecniche di intelligenza artificiale sia estremamente interessante, convincente, divertente e soprattutto sia un lavoro molto creativo perché abbiamo gli strumenti e abbiamo le possibilità di creare il futuro e abbiamo bisogno che i ragazzi rimangano da noi a studiare per la laurea triennale, per la laurea magistrale e anche per fare il dottorato. Questo è il primo anno in cui il governo ha finanziato un dottorato nazionale sull'intelligenza artificiale e quindi c'è la possibilità di studiare questo ad altissimi livelli in Italia e l'Italia ha bisogno che i nostri cervelli studino qua e rimangano qua. Questo è un aspetto interessante e coinvolgente anche per il mondo femminile, non lo dico perché sono donna io, ma perché credo che anzi conoscere la mente umana e conoscere tutto quello che in parallelo si può fare attraverso un sistema naturale artificiale sia una prerogativa molto femminile e penso che possiamo dare molto per insegnare alle macchine del futuro a fare un mondo simile a quello che pensiamo noi sia un mondo positivo. Quindi aspetto sempre con molto entusiasmo tutte le nuove studentesse che vedo che si avvicinano a questi studi di STEM e in particolare di ingegneria informatica qui ovunque in Italia. Io vorrei che in un futuro anche l'intelligenza artificiale possa essere così trasparente e comprensibile da permetterci di scegliere quale sarà il robot e l'intelligenza con cui noi vogliamo collaborare e con cui vogliamo convivere. Tanto abituiamoci all'idea che noi dovremmo lavorare in futuro e vivere in futuro con sistemi digitali, sistemi artificiali. Quindi cerchiamo di farlo al meglio. Al prossimo episodio